Bene, 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 dove eravamo rimasti? Rieccoci qui nella bellissima caverna in cui sono rimasto bloccato l'ultima volta In realtà non è che sono rimasto bloccato, ero lì per una missione precisa Cioè, no, non era mettere in pausa, non ho ancora imparato i tasti purtroppo Ma era quella di trovare finalmente i diamanti E vai, ce li abbiamo, fermi, fatemeli lasciare qua prima che combino un casino Siamo riusciti a trovare i diamanti, il problema è che mi sono spostato così tanto Ma così tanto che non trovo più la via di casa ormai E qui c'è tanto bel materiale e mi sta attirando molto Quindi adesso io mi vado a prendere l'oro e poi vi prometto che proverò a tornare a casa, ok? Che cosa, che cosa, che cosa? Non ho ancora salutato un abbonato leggendario oggi Un grande saluto a Sofifida, grazie per avere l'abbonamento leggendario In descrizione trovate il link per abbonarvi, per essere salutati E avere tutti gli altri super vantaggi dell'abbonamento leggendario di Mattiz Mi raccomando, miei cari giocatori di Minecraft Un bel mi piace per supportarmi e far uscire un nuovo episodio il prima possibile Proviamo a superare i 20.000 mi piace Adesso l'unico obiettivo, e il solo obiettivo, è quello di riuscire a tornare a casa Sento degli zombie e questa cosa mi fa molto paura Io non posso assolutamente morire, eh Mi pare quasi scontato Prendiamoci quest'ultimo materiale e poi andiamocene via Lapislazuli No, no, lì è troppo rischioso, raga Col cavolo che ci vada, avete proprio capito male Allora, seguiamo le torce Seguiamo le torce Secondo me, se seguiamo le torce prima o poi a casa ci arriveremo Magari una spada alla mano potrebbe essere la cosa migliore Mi mangio un panino perché sto morendo di fame Oh, sto giocando a ora di pranzo, eh Cioè, datemi un po' di cibo Spada alla mano e fino a qui io la strada la so Perché comunque vedo le torce e quindi capisco dove devo andare Tutto molto tranquillo Qui c'è un bivio Ma noi sappiamo che se andiamo di qui Becchiamo una torcia E c'è la redstone Perché questa redstone è praticamente ovunque Mi dà fastidio ormai per quanta ne sto prendendo E il bello è che continuo a prenderla Perché mi sembra qualcosa di super mega raro Ma mi sa che non è così Comunque io qui probabilmente mi sono buttato Non chiedetemi come Ma mi sono buttato in questo modo Oh, sto posto me lo ricordo C'è solo una cosa che non mi ricordo però Sono passato dall'acqua O dalla lava No, da lì Mamma mia, mamma mia Da qui penso di non esserci passato Dove, oh cavolo Sono passato proprio da qui Meno male che ci sono andato Raga mi perderò per forza Riprendiamoci ste cose che avevo costruito Di cui non mi ricordavo minimamente l'esistenza E speriamo Oh mamma Tu Tu sei un pazzo Ok? Tu sei Un pazzo Ah il bene è che non mi sono fatto niente È stato solo lo spavento dell'esplosione Ok, a posto Io odio i creeper Io odio i creeper Mamma mia raga Rischiamamo tantissimo eh Allora Allora Aspettate un secondo Ma 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 il creeper è esploso E mi ha aperto un passaggio sotterraneo con una torcia Quindi mi stai dicendo che io sono passato da qui? Ah no Mi sa che Aspetta No no raga Non ci sto capendo Non ci sto capendo niente No Fermi 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 Noi dobbiamo andare verso l'alto Ok E se invece fossi arrivato da qui Mi fossi fermato qui E mi sono messo a costruire le cose No no Non ci sto capendo più niente Nel dubbio Prendiamoci il ferro va Secondo voi Da dove cavolo sono arrivato Ehi Ehi Sento Sento No 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 Sento troppi Mob Allora Qui c'è della torcia Vediamo un secondo se me ne vado dalla parte Aia Se me ne vado dalla parte dell'acqua Perché anche qui ci sono delle torce ragazzi Mie cari gioioragatori di minecraft E' possibile che io sia passato da due parti contemporaneamente E forse no Perché io che cosa ho fatto Quella grotta mi fa molto paura Cosa ho fatto Io sono arrivato qui Cioè Cioè qua c'è uno stack di carbone praticamente Avrei dovuto riguardarmi il video prima di tornare Quello è poco ma Aspettate un secondo Fermi 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 Mi è venuta un'idea Mi è venuta una grande idea Io ho ancora il vecchio video di minecraft E in questo punto mi sa che io Ho guardato anche Le coordinate della grotta in cui sono sceso Sì Non ci voglio credere ragazzi Che fortuna No 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 Fermi 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 E' questo il video E' questo il video Qui esco da casa E qui Guardo esattamente le coordinate della mia grotta Fatemi scattare una foto E' 36 44 Meno 15 Ok ci sono Meno male che mi è venuta l'idea Adesso devo solo Ricordarmi Qual è Ok è questo qui Allora Era Aspettate un secondo Fatemi controllare Eh sì Sono molto lontano Cioè raga Io devo andare a 36.000 E mi trovo a meno 7.700 Va bene Ce la faremo Ve lo prometto 36 36 36 significa solo una cosa Andare da questa parte Sì sì Significa andare da questa parte Attenzione Potrei andare Nel punto giusto Iniziare a scavare verso l'alto Anche quella potrebbe essere un'idea Comunque Oh yes Questa era la zona giusta Meno male che ho controllato Se vado di qua Arrivo a 36 Esattamente Se io adesso Mi trovo nel punto giusto E inizio a scavare verso l'alto Dovrei arrivare a casa senza problemi Proviamoci Proviamoci raga Proviamoci Tutto è possibile Io mi fido Della mia mente Da Da Non lo so Da marinaio Anche se non sono un marinaio Dai ce la dobbiamo fare Fidatevi di me raga Io sono un vero ingegnere Fidatevi Se io adesso inizio a scavare verso l'alto E mi trovo nel punto della X preciso Dovrei arrivare di nuovo a casa senza Eh fare Perché non mi fa scavare Ah ok mi serve questo Ah ecco Mi si è rotto il piccone Ti pareva? State tranquilli Ne ho fatti così tanti di picconi Che non ho paura di niente Davvero Ma proprio di niente Raga se ce la faccio Voglio un mi piace In questo esatto momento Mi raccomando Condividete il video a tutti i vostri amici E in descrizione trovate Anche il link delle magliette ufficiali di Mattiz Per riuscire a trovare i diamanti Mi raccomando Ora Continuo a scavare Continuo a salire Prima o poi arriverò Io mi fido di me Ce la devo fare Devo tornare a casa E lasciare i diamanti Prima di morire Perché se no Sarà davvero un casino Vai vai Sali 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 Senza paura Matti Non utilizziamo le torce Perché tanto non ci servono Ma quanto sono sceso in profondità Mamma mia Sono sceso tantissimo Secondo me stiamo arrivando E potremmo Prendere la zona in cui saliamo Come diciamo Il nostro buco Per arrivare direttamente A quella grotta piena di minerali Non sarebbe male Potrei costruirci tipo Non lo so Una rec... Eh? Perché qui è tutto bugato? Che cosa? Dove cavolo mi trovo Raga Questa è un'altra grotta Molto più in alto Però What? Eh sentite Facciamo finta di niente Ok? Noi continuiamo a salire Andiamo per la nostra strada Dobbiamo arrivare a casa Ricordiamocelo E dobbiamo dare da mangiare Ai nostri polletti Soprattutto Ok Vedo la sabbia E io sono sceso Da un punto in cui C'era la sabbia forse No probabili No 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 Ti prego Non morire Oh mamma mia raga Pensavo di essere morto Quanto odio la sabbia Voi non avete la minima idea Fatemi mangiare Mai scavare in questo modo raga È una cosa da Da pazzi O da mattiz Ecco È notte Strano che sia notte Il problema è che Anzi Non ho il problema La cosa bella è che siamo Arrivati E quella è la mia casa Ce l'abbiamo fatta Sì Un grande applauso per noi Che siamo riusciti Ad arrivare a casa Senza morire Fatemi tornare subito Prima che arrivano i mostri Corri 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 Saliamo Saliamo E andiamocene a dormire Che questa missione È durata ben due video Ed è Chi 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 sei te Chi è quello Ci sono le mie pecore ancora Vero Soprattutto ci sono i miei lama No ragazzi I miei lama I miei lama No I miei lama sono scomparsi Non ci posso credere I due lama che avevo catturato No Non ci provate No Non ci provate Vai via Entra dentro Entra dentro No Porca miseria Porca miseria Stanno scappando le mie pecore Aspettate Aspettate A cosa serve le pecore Non lo so Non lo so cosa serve alle pecore Il grano Il grano Il grano Il grano Il grano Fermi 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 Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Calmi 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 Boom Boom No Cavolo Questo non è grano Sì sì è grano Fermi Ragazzi sono rimasto con due pecore Non ci voglio credere Aspettate un secondo Aspettate un secondo Devo andare a riprendere la mia pecora Marrone E un'altra che non so dove è andata a finire Intanto vieni qua Brava Attenzione che lì ci sono i mob Prima che ci uccidano Vieni nel recinto Per favore Ecco Con questa grande cavolata Abbiamo Ah no Ehi Ma non erano due Va bene O sono cieco io O non so darvi la spiegazione a questa cosa Venite qui Brave pecorelle Ok Ciao ciao È stato un piacere Haha Ehi È arrivato Sono arrivato dai miei polli preferiti Ma quanti siete diventati piccolini Ciao No ecco Ne è uscito uno Oh sì I miei polletti preferiti Aspettate che vi do da mangiare Fatemi postare tutte queste cose Prima che Che non lo so Esploda un creeper in casa mia Poniamo in questo esatto momento I nostri diamanti Missione completata E lasciamoli stare lì Per sempre Praticamente No 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 Ci farò qualcosa Ve lo prometto Però non so cosa Ecco Sì Non so per niente cosa Potremmo farci un'armatura in oro Che ne pensate? Potrebbe essere una bella idea Pollettini Venite qui Oh Cibo per Ah no Mi è finito Mi è finito il cibo No 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 Pollettini mi dispiace Mi è finito il cibo Domani vi darò da mangiare State tranquilli Ah no 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 È vero ce li ho ce li ho Scherzavo scherzavo Scusate eccomi Eccomi Sì Chi ha fame eh Chi ha fame Sapete che adesso devo uccidere qualcuno di voi Vero? Perché siete in troppi Lo sapete sì Eh mi dispiace ragazzi Mi dispiace Ok è arrivato Il momento di fare un po' di piazza pulita Mi dispiace Ok probabilmente avrei dovuto chiudere Mi dispiace Eh ragazzi Non è colpa mia Eh eh oh Eh sentite funziona così Eh 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 Sei riuscito a scappare bene Se no Oh cavolo Potrei averne uccise troppi Non è vero Ah 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 Ok sono una persona cattivissima Intanto raga è arrivato il giorno E io non sono neanche andato a dormire Penso di non dormire da almeno 4-5 giorni Comunque a parte questo Venite qui dentro voi Bravissime Bravissime Vi do da mangiare a tutte quante voi che siete sopravvissute Brave 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 Ora fatemi andare via E ci vediamo più avanti Siamo riusciti a tornare a casa E quante uova ci hanno dato Wow Quante belle uova È arrivato il momento di lanciarne un pochino Probabilmente Sì sì Vediamo un pochino Se siamo fortunati Polletti Polletti Sì sono nati tanti polletti Non ci credo Guardate quanti Yeah Adesso però una cosa che volevo già fare prima E vi avevo detto Ve l'avevo pure detto Era espandere un pochino il mio campo di grano Andiamo Woo Finalmente qualche missione tranquilla Senza rischio di morire Perché davvero ragazzi Fare ste cose è una cosa bruttissima Datemi un po' di questi Datemi un po' di questi No Non mi danno semi Oi Non mi date semi Datemi un po' di semi Datemi un po' di Grazie Ok direi che farci una pala potrebbe servirci Quindi Quindi la facciamo semplicemente Perfetto Direi che così può funzionare Guardate qui che bei campi possiamo fare Che ne pensate Mi piace molto come idea a voi E' tutto circondato dall'acqua Quindi stiamo tranquilli che è tutto ben irrigato Senza che io debba dare acqua a nessuno Facciamo così E' arrivato il momento di coltivare E' arrivato il momento di coltivare Oh yes Vai 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 Boom 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 Parapam No Sono finiti Bene Ok Diciamo che siamo messi molto meglio eh C'è solo una cosa che devo capire io A cosa può servirmi una balla di fieno Perché non ne ho soltanto una Ne ho un bel po' Ma Aspettate dove sono Probabilmente Le ho perse in giro eh Ma Ma Che cosa O le ho usate tutte Non lo so Va bene Sentite non facciamoci domande Mi raccomando ragazzi Fatemi sapere a cosa può servirmi il ferro O i lapislazuli E la redstone Sono molto curioso di vedere Cosa possiamo fare No La La pala di diamante probabilmente non la farò Mi dispiace Se riuscissi a trovare altri Spider Altri Come si chiamano Altri ragni Potrei farmi finalmente Il cavolo di Ehm Di Di filo per portarmi Il L'asino L'asino che volevo Ok Ma probabilmente non posso Perché Non trovo ragni Intanto ci andiamo a fare Uno di questi Esattamente In modo che Ce ne riandiamo Dove siamo saliti Nella nostra grotticella Eccolo qui Guardate Haha Ok Allora Mettiamo un coso qui E mettiamo Scava Per La Cava Almeno facciamo anche No No Ehm Allora Cosa potrei fare Scava per cava Ok Almeno facciamo anche rima E siamo tutti quanti molto molto contenti Boom Oh yes Ma la vera domanda è Adesso mi è venuto in mente un'altra cosa Io Con le canne da zucchero No Che cosa ci faccio Davvero Perché Io potrei averne infinite Di canne da zucchero Ma Mi da lo zucchero Giustamente E io poi con lo zucchero Che cosa ci faccio Facciamo che Prima o poi lo scopriremo Va bene Miei cari giocatori di minecraft La nostra avventura Sta continuando E stiamo andando alla grande Ho preso un sacco di minerali L'ultima cosa che voglio fare Prima di Andarmene via E mettere A cuocere l'oro Ovviamente Perché i blocchi così Non ci servono a niente Quindi boom E potrei intanto Terminare Cosa posso fare col ferro Aspettate un secondo Visto che ne ho tanto Potrei farmi una spada in ferro Innanzitutto Che può sempre servire Che può sempre servire Ma che cosa è questa Iron nugget Facciamola Sentite Non mi interessa L'abbiamo presa Oh Questo lo vorrei però Yes Il fiammifero L'acciarino Come si chiama Non mi ricordo mai Potrei fare anche il minecart Che però non mi serve a niente Una cosa che potrei fare Potrebbe essere il piccone in diamante E andare a prendere l'ossidiana E fare finalmente il portale del nether Cosa che probabilmente farò al prossimo episodio Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se è così è stato Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E fatemi sapere se volete Un nuovo video di minecraft Datemi consigli qui nei commenti In questo momento Trovate sullo schermo Dei video che sicuramente non avete visto Quindi cliccate su quello che preferite E noi ci vediamo Semplicemente in quel video Mi raccomando Scegliete bene Link del canale di Ninnematti In descrizione E anche dei profili Instagram più importanti Grazie a tutti Ciao ragazzi